Altra nozione base per l'uso del fotovoltaico, quando funziona? Allora partiamo dal fatto che nel normale funzionamento l'impianto fotovoltaico si avvia e si ferma da solo, non dovete andare voi ad accenderlo e non ha senso staccare l'interruttore di notte. In condizioni normali l'impianto va quando c'è abbastanza luce da permettere alla corrente di fluire nei pannelli fino all'inverter. Insomma, semplificando al massimo l'impianto fotovoltaico produce energia di giorno, quindi è normale che vediate l'inverter spento di notte, la mattina presto e la sera verso il tramonto, anche di giorno se è molto nuvoloso. Se il vostro impianto di giorno è acceso con luce verde fissa sull'inverter vuol dire che è tutto ok, se no potete cercare di capire le cause del blocco in uno dei video fotovoltaico in blocco che trovate sul mio canale. È semplice, per far andare fotovoltaico serve la luce del sole, il sole c'è di giorno, quindi il fotovoltaico funziona di giorno. L'accumulo poi è un'altra storia, ma lo vedremo in uno dei prossimi shorts.